È un anno critico. Non usa mezzi termini Carlo Carli, presidente di Confagricoltura di Forrice Sena e Rimini, parlando dell'annata in Romagna. La pandemia è arrivata come un ciclone anche sul comparto agricolo, chiedendo uno sforzo maggiore, a fronte però di grandissime difficoltà nel reperire la mano d'opera e nell'affrontare i maggiori costi. La frutta estiva, tra le eccellenze del territorio romagnolo, ha sofferto particolarmente. La stagione 2020 è stata caratterizzata da una minore produzione, dovuta soprattutto alle condizioni climatiche avverse di inizio primavera e da un incremento dei prezzi medi della frutta estiva in un contesto reso ancora più difficile dal ridimensionamento delle superfici coltivate, i problemi sanitari sempre più diffusi e la concorrenza sleale. L'andamento negativo dell'annata, sottolinea Carli, aggrava le difficoltà strutturali dell'intero comparto. Come dico da tempo, è bene che ci occupiamo con urgenza e a tutti i livelli territoriali nazionali della redditività dei produttori. Da qui l'idea di Confagricoltura, creare un tavolo romagnolo che affronti i problemi e trovi nuove soluzioni per dare un futuro alle imprese. Parliamo tutti da anni di filiera corta, spiega Carli, e l'emergenza di questi mesi dovrebbe averci insegnato il valore dell'agricoltura e dell'agroalimentare in generale. Occorre quindi porre mano alle politiche e restare al fianco dei produttori per dare loro una speranza per il futuro.